Ed eccoci arrivati all'altro monumento, diciamo monumento, scultura, si chiama scultura, comunque siamo arrivati a Tomium di Bruxelles, eccolo qua Allora ci avviciniamo e poi faremo le riprese più da vicino, a dopo Sempre vicino all'Atomium, troviamo questo Questo qui è tutto il parco prima di entrare All'Atomium è proprio, eccolo qua Ok, ci vediamo dopo, bye bye Qui prima di entrare nell'Atomium Siamo all'interno, sempre nell'ascensore E poi dopo sediamo Grazie a tutti Grazie a tutti